Cioè ti porta le terme e un tifo spende nemmeno nulla, il tifo starà a guazzo gratis Le terme in Toscana a UFO, andiamo vai! Inizierei con i bagni di San Filippo, chiamati anche la balena bianca Qua l'acqua scorre ad una temperatura di circa 40 gradi Perfetta per curare problemi di pelle, naso e gola Se tu senti puzza di uova marcia, tranquillo un suo uova marcia ma l'è zolfo, passa veloce A San Cacciano dei Bagni puoi trovare addirittura due piccole stazioni termali Nella prima l'acqua sarà a 200 gradi dove un po' ti venga agli svarioni Nella seconda invece l'acqua ha una temperatura più gradevole e c'è anche meno 100 Si sta sicuramente meglio Le più famose però sono sicuramente le cascate del mulino vicino Saturnia Nate grazie alla saetta scagliata dal dio Saturno, così dice la leggenda Si racconta anche che in queste acque ci venisse l'esercito romano a curarsi dopo le guerre E queste sono le terme gratuite in Toscana che conosco io I soldi uniche, ce ne sono anche altre A proposito, fammi sapere a quale tu conosci te, almeno ci si aiuta e si fa di bene alla community Posso mai fare tutto io?